La qualità di un servizio è direttamente proporzionale alla qualità dell'assistenza fornita al cliente. Ce lo insegnano i grandi brand tecnologici. Se da un prodotto di valore non accosti un eccellente servizio di customer care, di cura del cliente, il valore percepito si abbassa drasticamente. Ecco perché il primo passo di XP quando ha aperto il mercato italiano è stato quello di formare un grande team. I nostri agenti vengono accompagnati passo a passo a bordo del sistema non sono mai lasciarti soli. E quando le cose si fanno difficili, i nostri specialisti legali e fiscali rispondono a tempo di record, ai quesiti degli agenti. Ogni aspetto del modello XP prevede una persona dedicata che fornisce soluzioni. In XP non sei mai solo. Ecco perché stiamo crescendo a tempo di record. Vuoi conoscerci da vicino? Ti basta seguire questo link.